Il presento atto della comunicazione del Consigliere Giuseppe Antone e Natalino Sanzione, detto Consiglio Comunale, ad oggi è composto da tre gruppi consigliari. Gruppo Verso il Futuro, Capogruppo Ingegnero Umberto De L'Otto, Gruppo Ricominciare, Capogruppo Toro Benedetto Volpe, e Gruppo Partito Democratico, Capogruppo Giuseppe Antone e Natalino Sanzione. Diamo inizio.